E' ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo di tale Bani Napoletali, qui su Zoom, pronto a continuare. Ragazzi siamo qui praticamente, abbiamo cercato di rimanere tutta la notte al sicuro in questo piccolo rifugio del nostro amico e in una giornata veramente merdosa dobbiamo raggiungere Buckingham Palace. Quindi ragazzi ci stiamo, che cavolo succede? Ho sentito un rumore strano, questi sono tutti i soldati che abbiamo fatto a pezzi prima, siamo full ragazzi. Io però, l'integratore di salute è piccolo, mentre questo, beh pure questo, no, probabilmente danno la stessa energia. Quindi ragazzi, qui abbiamo fatto una strage col mitragliatore, con l'M60 che c'è stato, ancora uno vivo, forca miseria. Ragazzi, questi sembra non finire mai, ok, è morto quella chiavica, ha fatto prendere un infarto, allora lo prendiamo, 13 proiettili, ok, due granate abbiamo con noi, va bene. Ok, andiamo da questa parte. Ancora una, oh mamma, questo è torto ragazzi, sembra fatto di metallo. Ok, ok, il casco è andato, abbiamo più possibilità di fargli del male, non diamogli respiro, vai, ok. È una cosa disgustosa, vi chiedo scusa, è una cosa veramente disgustosa, ma dobbiamo sopravvivere. Oh mamma, che cos'è sto posto adesso? Ecco da dove passerai. Fa attenzione, lì sotto non c'è segnale radio, non potrò aiutarti. Eh, andiamo bene, non c'è segnale radio, vabbè. Prendiamoci un po' intorno. Sembra, sembra pulita la zona. Ok, cos'è sto posto? Ottimo potenziamento, cadenza di fuoco. Molto bene ragazzi, io dovrei scendere qui dentro. Ma manco morto ragazzi, ma per favore, andiamo dall'altra parte qua, non c'è un'altra stradina. Qualcosa da questa parte che si può fare con più tranquillità all'aperto. Cioè, quale coglione può scendere qui? Cioè, no ragazzi, pollici in su immediatamente perché stiamo per scendere, eh. Via. Ho paura che mi mordano le chiampe, qualche zombie maledetto che mi morde il culo. Mamma mia ragazzi, siamo mal in peggio, guardate che siamo praticamente in una specie di... Oh merda! Borca! Oh, cazzo! Ma ha fatto un male cane ragazzi. Ma ha fatto un male cane. Bisogna stare proprio attenti. Perché ci faceva questa schifezza qui sotto? Ci ha presi alla sprovvista ragazzi, ci ha fatto un male veramente cane. Allora, vediamo qui che c'è. Ah, maledetto. Di male in peggio qua, continuiamo. Mamma mia, aspettate ragazzi, è qua. Allora, non possiamo morire assolutamente perché... E questo è sto, perché che mi fa salire? Un microgrammo? Di energia? I medic... I medic kit voglio conservarli ragazzi. Abbiamo questa palla che... Fortunatamente mi vuoi fregare, tu ho visto, cretino. Le mortacce tuo, è un tranello. Brutato! Ma questi f***i... Avete capito? Cioè... Ma cosa da... Ma guardate che roba qui. No, legno proprio adesso... Ragazzi, per favore. Siamo in radar. Sembra pulita la cosa. Oh mamma, una fogna proprio, una fogna. Cerchiamo di capire se c'è qualcosa che ci può essere utile. Ma al momento... Niente, andiamo. Non visualizzare assolutamente niente. Vediamo ancora il radar. Per essere sicuri, ragazzi, qua. Oh cavolo, e com'è che sul radar non l'ha visto? Porca miseria. No, attenzione. Diamogli respiro. Ok, morto. Morto, 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 morto. Anche stando con i piedi nell'acqua, io non... Ho una paura fottuta, perché... Ci possono... Mordere, cioè, insomma... Ok, andiamo via di qui. No, è diventato sempre più alta l'acqua, ragazzi. Un zombie. Credo... Credo che ci ha visti. Aspetta, andiamo di qua. Vediamo un po' se riusciamo a salire. Fuori dall'acqua, fuori dall'acqua. Eccolo. Sta salendo. Merda. Oh, figlio di puttana come cazzo sei nervoso, eh. Aspetta, stronzo. Io credo che non riesca a salire, però... Ok. Ok. Ok, rimani lì. Non voglio neanche sapere cosa puoi avere indosso. Mi hai fatto... Schiattare di paura. La zomba di tua madre. Ancora qua. Cioè, come si fa? E' tutto... Cioè, è impossibile che tutti siamo circondati, cacchio. Qua non c'è assolutamente niente. Eh, dobbiamo andare qua. Ok, alle spalle dovrebbe andarci bene, ragazzi, eh. Zitto, zitto. Ma... Acciaio la sua testa. È una donna in tagliere. Dove essere... Dov'è il tuo ufficio? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Sono troppo tosti. Allora, guardiamoci bene intorno. Abbiamo rischiato, eh, perché non dobbiamo... Concentrarci su un solo zombie. Perché... E' pericoloso. Dobbiamo ruoteare continuamente la telecamera. Eh, infatti, vedate qui. Questo. Oh, mamma. Sai, fermo lì. Ok. C'è assurdo. Una coca. Ok. Fa proprio a casa nostra. Un secondo. Non credo di essere più o meno al sicuro. Più o meno. Vediamo se c'è qualcosa. Oh. Ok. Almeno abbiamo una mappa. E vi ricordate? Questi punti, vedete? Ci danno la possibilità di... Di... Questa cosa. Un'altra bibita. Va benissimo. Un succo. Allora. Calma. Allora, questo è piccolo. Giusto? Quindi... Ce la beviamo subito perché siamo... Ok. Siamo full. Siamo pieni. Poi abbiamo questa coca. E un'altra. Ok. La conserviamo perché... Voglio conservarvi i medikit, ragazzi. Mamma mia. Mi conservo i medikit perché... È importante che abbiamo... Più possibilità. Credo... Una signora adorabile, la regina. Per quanto possa essere adorabile una lucertola in carta pecorita con fattezze umane. Ma ti assicuro che sia stato tu. Non è lei a voler mantenere segrete le profezie di Dì, ma il governo. Spero sia fuggita in India. Pare che lì il clima sia ideale per i rettili. In India, sì. Qua è successo un gran casino. Qui è tutto barricato. No, io qui sotto non mi butto, ma neanche. Stiamo scherzando. Andiamo di qua. Ok. Mamma mia. Sempre più giù. Chiudo perché non voglio trovarmi nessuno, tatticamente, dietro. È brutto dire... Sentirsi qualcuno dietro. Specialmente uno zombie. Troppo tranquillo per i miei gusti qui, eh. Ok. Sembra... Sembra a posto. Oh. Mamma mia. Ci stiamo proprio dirigendo verso Buckingham Palace. Speriamo. Speriamo. Siamo sempre... Sempre qui. Continuiamo. Veramente è bella la grafica, ragazzi. Questi sotterranei sono fatti... Molto, molto bene. Vediamo se si apre. No. Non si apre la porta. Ho paura negli angoli. Capite la regione, aspettate. Volevo assicurarmi soltanto che... No, non si apre la porta. Volevo assicurarmi di non perdermi niente. Questa è bloccata, se non sbaglio. Dobbiamo usare il... Il nostro palco. Sì, infatti. Ok. Grazie. Sì, attenzione. Lì sotto non potrò aiutarti. Puoi contare solo su di te. Chiediamo la porta. Posso contare solo di te. Ma perché fino ad adesso non è che tu abbia fatto più di tanto che... Mamma mia, ragazzi. Spettacolo, ragazzi. Spettacolo. Guardate che grafica. Ti sto perdendo. Deve essere schermato. Fai molta attenzione. Ok. Sì, ma mi stai facendo cagare addosso. Cioè, dico la verità. Mi stai facendo schiattare di paura. Cioè. Speriamo di fare la scansione di tutto quello che c'è. Potenziamento della capienza. Io penso sia qualcosa relativo a... A... A un mitragliatore o chissà cosa. Porta chiusa. Ok, proviamo. Vibra. Ok. Primo. Due. Veramente estremamente semplice. Cioè, dove vibra? Lì praticamente ti fai... Beh, procedi lentamente. Tac. Eh sì. Ok. Merda. L'ho lisciato. L'ho sbagliato, ragazzi. L'ho sbagliato alla grande. Cazzo è... Ah, lascia perdere. Stai... Stai bene? Io sì. Vero? Però diciamo. Stai in gamba. Grazie, caro. Sono Mugainino. Forse potremmo darci una mano a Vicente. Eh, accuno. Che cazzo sei? Scusa, ti spiego. Sulle pareti ci sono monitor di sicurezza e altoparlanti. Mi chiamo Peter Knight. Sono un medico tirocinante della casa reale. Quindi è tutto ok. Non stai impazzendo. Eh, meno male. Eh, beh, eh... Potresti raggiungermi al laboratorio? Fatto un mio infarto brutto. Testa di minchia. Ok, cosa c'è? Ancora via questo cadavere. Che schifo, cazzo. Mamma mia, cos'è qua? Ok. Dobbiamo stare attenti. Oh, oh. Mi spiace, amico, ma io non posso rischiare niente. Questo cos'è? Accesso di sicurezza. Usa lo scanner della retina. Ah, sembra proprio la... Qualcosa... Un posto molto importante, a quanto pare. Questo che è bellissimo. Una specie di ascensore, credo sia. Anzi, apre. Niente. Ok. Proviamo di qui, ragazzi. Ok. Cazzo, ho sentito del rumore. Ma di qui non si passa, hanno baricato tutto. Di qui, anche baricato. Questo cos'è? No, necessi, no. È proprio da filmore. Dai, sicuro viene fuori qualcosa, dai. Sperando che non ci sono... Uno, due, tre. Porta chiuda, ok. Pronti, raga, pronti? Uno, due, tre. Ecco. Lo sapeva. Lo sapeva. È una maldita terribile. Non è riuscito a sopportare tutto questo errore. Forse era più sensibile di noi. Cazzo, non è riuscito a sentire questo coglione. È una pistola, amica. Ragazzi, è una pistola, tra l'altro, silenziata. Non sbaglio. Speriamo che abbia gli stessi proiettili. Sì. Fenomenale, ragazzi. Allora, no, la mazzata cricket. Il fucile ce l'abbiamo. E carichiamolo sempre. Il nostro mousing dopo guerra, cavolo. Allora, vediamo un attimo. Ok. Guarda che bella, eh. Ok. Bene. È ottimo, perché così possiamo anche non farci sentire più di tanto, eh. Molto bene. Eh, ragazzi, io direi di fermarci proprio qui, perché se no il video viene veramente troppo lungo. Non apro questa porta, perché l'apriremo insieme nella prossima puntata. Proprio per raggiungere questo tipo, un nuovo personaggio che ci sta aiutando sempre, praticamente, a fare, a trovare l'uscita da Buckingham Palace. Va bene, con questo è tutto. Vi ringrazio di essere state qui con me. Mugiaidin, l'ultimo dei talebani napoletani. Vi ringrazio, vi saluto, a presto e ciao.